Profughi e accoglienza, un binomio che sta scaldando il mondo civile e politico, creando anche forti tensioni tra chi è disposto ad aprire le porte dando ospitalità e chi invece ritiene sia giusto aiutare prima gli italiani in difficoltà. Ecco le due facce di una stessa medaglia che risponde al nome di immigrazione. Dal mondo religioso arriva l'appello per cercare un punto di equilibrio tra le due visioni. Inseriamoci in un contesto, non guardiamo il colore della pelle ma guardiamo chi è in difficoltà. Non facciamo solo, chi è in difficoltà deve avere un'attenzione particolare, italiano o non italiano. Nel mio contesto incontro chi è in difficoltà e quello deve avere la precedenza. Una sfida che per suor Marilena va affrontata a livello nazionale partendo dalla scuola. All'interno della scuola davvero c'è la possibilità di integrare punti di vista diversi e a partire da un riconoscimento della propria identità che non diventa una monade che si chiude ma si apre ad accogliere l'identità dell'altro. E c'è invece chi dando per assodata l'accoglienza si pone un'altra domanda come vero nocciolo della questione. Credo sia questa la domanda più pertinente che come far sì che un'accoglienza non sia una pura assistenza immediata ma una risposta di prospettiva.